Musica Basta guardare gli ultimi casi, mi sono preso... Cominciamo dalla notizia più fresca. L'orizzonte è quello dell'Expo, l'Expo 2000. La notizia ultima è quella degli incontri tra due personaggi che sono considerati in area Andranghia, una coscarea, cioè Giovanni V e Francesco Franconeri, incontri con un assessore di Somma Lombardo e poi consigliere provinciale di Varese, di Forza Italia, che si chiama Massimiliano Carioni, e un altro personaggio di Forza Italia, presidente dell'Alea, la società delle case popolari di Varese, che si chiama Paolo Galli, e poi Vincenzo Giudice, di Forza Italia, consigliere comunale di Milano, presidente della Zinca, che è una società mista partecipata dal comune di Milano. Interrogate queste persone hanno detto, non sappiamo nulla, ma questo Giovanni V, sì, l'abbiamo visto, veniva nelle nostre scene elettorali, che è un nostro sostenitore, vi portava voti, ma noi non so, non ne sappiamo nulla, non sanno nulla, non sa, non si sa, non capiscono quello che succede, eppure la politica la fanno, i voti li portano a casa, eppure negli ultimi tempi ci sono stati tre omicidi tra Ferno e Ronate Pozzolo, guarda, un passo, tre calabresi che lavoravano nei cantieri a Dili sono stati ammazzati. E' stato arrestato recentemente un funzionario dell'assessorato all'urbanistica di Gallarate, si chiama Luigi Bossi, cognome, c'è stato anche un ferimento a pistoletate sulle scale del municipio del dirigente del settore edilizia del comune di Besnate, scene appunto da Gomorra, ma questi non sanno niente, e anche a Milano non succede niente. Nell'ultimo anno circa, il 3 maggio 2007, c'è stato il famoso blitz all'ortomercato, è stato arrestato il salvatore Morabito, ma è stato coinvolto nelle indagini anche un signore che si chiama Alessandro Colucci, che è di Forza Italia, consigliere regionale di Forza Italia, perché gli indranghettisti inquisiti nelle loro chiacchierate telefoniche dicevano che avevano sostenuto l'elezione di Colucci, l'avevano insomma portata e quello era a Nicolò, avevano organizzato delle cene, una cena venuta il 17 marzo 2005 al ristorante Giannati di via Lazzaropati, naturalmente a cui non ne sa niente, però quella cena c'è stata, è stata fotografata dagli inquiretti e è stata documentata. 3 aprile 2008, c'è un'operazione a Milano in cui vengono arrestati alcuni, della Camorra invece, che operavano a Milano, il gruppo di Vincenzo Guida Campani che operano qua. Nell'indagine sono coinvolti due personaggi, uno si chiama Emilio Santomagro, che lavorava con questo gruppo camorristico, Emilio Santomagro era di AN, è passato poi all'Udc, è stato due volte consigliere comunale a Milano, dal 1997 al 2007, stava in queste sale, è stato presidente della Commissione Urbanistica, qui di Palazzo Marino, è stato vicepresidente della Sogeni, la società comunale che gestisce l'orto mercato. Poi l'hanno candidato al Senato, è stato il primo degli aletti dell'Udc nel 2006. Nel 2000 aveva subito un misterioso attentato, è stato gambizzato, qualcuno poteva pensare che insomma le frequentazioni erano sue, erano un po' complicate, ma invece non hanno visto niente, non hanno saputo niente e è stato candidato fino al 2006. Nella vicenda, sempre questa famiglia di camorristi, è coinvolto anche un signore che si chiama Francesco De Luca, che oggi fa il deputato. Nel 2006 è stato eletto in Forza Italia, nel 2008 è passato alla DC di Rotondi, quel signore che vediamo in tre giornali, ma comunque oggi è tutto PDL, il Popolo delle Libertà, ed è deputato. Bene, lui è stato indagato dalla Procura di Milano per tentata corruzione in atti giudiziari, secondo le intercettazioni telefoniche, secondo l'accusa, lui si è interessato per addomesticare in Cassazione alcuni processi di questi signori camorristi del clan Guida. Rapidamente, 26 giugno 2008, arresti a Quartoggiara, la banda sbominata, la banda che faceva spaccio di cocaina ai paletti. 10 giugno 2008, arrestate le nuove leve del clan Papalia Barbara, e qui è interessante perché è proprio la seconda generazione, come nel Padrino 2, ci sono Salvatore e Rosario Barbaro, attivi nella zona di Vincinasco, gente che ha studiato, non sono più i vecchi criminali, i vecchi patriarchi, o meglio i patriarchi ci sono ancora e continuano l'attività, però c'è già il rincalzo di questi giovani che hanno uno stile diverso, sono apparentemente politici, fanno affari, vengono appalti, hanno monopolizzato alcuni settori delle vite e si presentano bene, hanno studiato, parlano bene, non sono... In questa indagine vi ricordo che anche qui c'erano dei politici come vittime, il sindaco di Bucinasco per esempio, che poi tentò di far diventare un locale confiscato al clan dei calabresi una pizzeria sociale, un luogo che visivamente facesse vedere, ecco, vedete, si può fare, qui c'era Valdrangheta, ora c'è l'antimafia. La nuova giunta di centrodestra che si è insediata alle ultime elezioni ha bloccato la cosa, questa cosa non si vedrà, una pizzeria sociale cosiddetta, cioè questo simbolo, questo segno di svolta non si farà. E per finire, 23 luglio 2008, come lo sapete l'altro ieri, è arrestato Antonio Piromanni, manager dell'ortofrutta. Bene, anche lui aveva dei contatti eccellenti, Piromanni, prima delle elezioni politiche, avevano avuto contatti e incontri con, guarda caso, con un senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, chiedevano un alleggerimento del regime carcerario al vecchio boss, il carcere Giuseppe Piromanni, e chiedevano anche magari un aiutino per il figlio Antonio, quello arrestato appunto nel luglio scorso. Chiedevano, non so, dargli per esempio una funzione consolare, un rilascio di passaporto diplomatico, perché non gliel'hanno fatto in tempo a darglielo. Gli incontri ci sono stati, più incontri nel dicembre 2007 a Milano e poi a Roma, tra Dell'Utri e Emissari di questo gruppo. Ecco, questo è il quadro, il quadro dei fatti. Questa è la realtà in cui noi stiamo vivendo, queste sono le cose che avvengono qui, in queste stanze, queste stanze, nelle stanze dei municipi, dei paesi dell'Inter e della Lombardia. La politica non mi sembra che dia molti segnali d'attenzione. L'Expo è nel 2005, speriamo che si sveglino prima. E speriamo che si sveglino prima, che si sveglino anche, e con questo concludo, anche gli imprenditori, perché se abbiamo un'imprenditoria che in Sicilia ha dato segni di reazione e di vigore per quanto riguarda il contrasto al pizzo, beh, non sarebbe male che a Milano, a Lombardia, a Noro, dove l'imprenditoria dovrebbe essere, in teoria, più solida, più sana, più forte, anche culturalmente più attrezzata, beh, non sarebbe male se desse qualche segnale di attenzione, perché qui non siamo in un altro mondo, siamo nel mondo dove succedono quelle cose di cui vi ho dato qualche esempio nel mio intervento. Grazie. Grazie.